No, noi stiamo facendo le carabinieri, voglio un carabinieri che venga con me, voglio un carabinieri, voglio un carabinieri che venga con me. Stiamo arrivando a questo. Cosa, ma il problema di andare a fare la fototopica è la persona che c'è dentro. Che non devono entrare le carabinieri. Ma è una fototopica, ma è tutta qua. Non è la fototopica. Non devono entrare le carabinieri. Altrimenti qua facevano le carabinieri e li vediamo ammazzati. Chiaro? Io sono Sardi, sono il presentatore della lista di serie. Ci sono delle persone che vogliono portare i documenti dopo il tempo scaduto. Va bene? Va bene? Altrimenti qua succede la guerra civile. Il nome del signore che sappiamo. Quando venite vi identificate voi. Ah, se non è. Ma insieme a voi. Non mi chiede, non mi chiede. 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 Della lista di tutella non c'era. Almeno fino a quando io ero dentro. Chiaro? Quindi a te è un po' scaduto. Sono, che ore sono in questo momento? Le due meno un quarto. La sua lista è stata presentata adesso? La mia lista. Cioè era dentro adesso? La mia lista era già prima. Sì, sì, sì. Temporalmente la presentazione è... Sì, vediamo di capire. Il nostro piacerebbe come ho dedotto questo. Come ho dedotto che ero lì aspettando che mi si facesse firmare un verbale per la presentazione della lista e ho sentito che l'atto principale della lista di tutella non c'era. Questo ho sentito. Quindi io non so se c'è o non c'è. Non c'è, non c'è. Chiaro? Beh.